Allora, aspetta vieni qua, come ti chiami? Dai dai resta qui, vieni qua, vieni qua, vieni qua, cagnaccio, qui. Allora dai, intervista a Lampo, vieni qua, vieni qua, qui, qui, qui. Allora, come ti chiami? Quanti anni hai? Aspetta, vieni qua, qui, qui, è buono, guarda, dai, dai, allora, come ti senti? Ah, ti piace che ti gratto, cagnazzo, infedele, sei proprio un cano, dai, 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 no, vieni qua, guarda, ti gratto, se lo gratto sta fermo, anche se l'italiano lo capisco, dimmi qualcosa del mondo canino, dimmi qualcosa del mondo canino, dai, su, con qualcosa, una parola, eh, è buono, eh, dai, ti gratto, allora, se ti gratto, ti piace, sei buono, eh, il cane gratta gratta, è un gratta, non è un cane, ma è, è vero, è vero che siamo, un cane gratta gratta gratta, ahahahah, noi ci siamo fatti i consigli, la Deceva, mo' mia Diceva, ragazzi, ma c'è una pelle, ma tu hai Viese? Sì, ma nel notte sono il freddo, ma anche, guarda, il freddo mantiene la pelle, è buona, ovviamente non è il mare, noi non si ammazzano sui soli, non ci vanno, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.